Buon pomeriggio a tutti, bentornati, benvenuti sul mio canale, iscrivetevi, mi raccomando se ancora non l'aveste fatto e lasciate un mi piace al video, se sarà di vostro gradimento. Giornata da incorniciare per il tennis italiano alle Olimpiadi e direi che è anche doveroso da parte mia fare un po' mea culpa perché avevo riposto poca fiducia nella spedizione azzurra dopo i risultati iniziali e invece veramente complimenti intanto a Lorenzo Musetti che centra una semifinale incredibile che mancava da 40 anni, dal lontano 1984 quando a Los Angeles un certo Paolo Canè aveva raggiunto la semifinale in presa compiuta da Lorenzo Musetti quest'oggi che batte in due set Alexander Zwerve, campione uscente in quel di Tokyo del 2020, Olimpiadi poi disputate nel 2021 causa Covid una partita dominata dall'azzurro in pieno controllo, veramente, praticamente dall'inizio alla fine Zwerve non è mai riuscito a far veramente male a Musetti e Lorenzo ha veramente compiuto un'impresa e diciamolo, è un Musetti in versione top, finalmente è il Musetti che ci piace, è un Musetti che ha trovato continuità, i risultati sono sotto gli occhi di tutti perché finale al Queens, semifinale a Wimbledon, finale a Umago, ora semifinale alle Olimpiadi non può essere un caso, poi qualcuno dirà eh ma non ha vinto, ok, lasciamo stare un passo alla volta, per Musetti questa semifinale equivale a una vittoria, ma il bello viene ora perché intanto Musetti ha la certezza che se andrà a giocare altre due partite, a prescindere da come andrà la semifinale avrà lo stesso la sua finale o per il terzo quarto posto o primo secondo posto, quindi già qui è un grande successo, poi è vero che arrivare quarti non ti porta nessuna medaglia, ma chi onestamente avrebbe mai pronosticato Musetti in semifinale? Io credo che in pochi e in più percorso netto perché Gael Monfilz 2-7 a 0 e neanche 24 ore prima aveva perso la finale con Serundolo Musetti, Navone 2-0, Fritz 2-0 e Zverev 2-0, quindi un Musetti veramente strepitoso, il punto, il doppio punto che ha fatto per andare a chiudere il primo set è veramente da andare a vedere e rivedere, strepitoso, semplicemente Musetti strepitoso e ora viene il bello perché Musetti può giocare anche con, non dico leggerezza perché sarebbe sbagliato ma con la consapevolezza che sono gli altri che devono temere lui, ora o Novak Djokovic o Stefanos Tsitsipas in semifinale e con entrambi Musetti non parte di certo battuto, ma anzi, ripeto, devono essere loro stare molto molto attenti perché questo Musetti può veramente battere chiunque. Poi aggiungiamoci anche il doppio femminile che scrive una pagina di storia del tennis italiano, mai un doppio femminile era riuscito a spingersi sino alle semifinali, Jasmine Paolini e Sara Errani battono la coppia britannica, Botter-Watson per 2-0 in maniera netta e insindacabile e accedono alla semifinale olimpica dove se la vedranno con la coppia che rappresenta la Repubblica Ceca formata da Noskova e Mucciova, quindi insomma un tennis italiano che avrà sicuramente la possibilità in queste olimpiadi di giocarsi una finale, due finali per le medaglie perché sia Musetti sia il doppio femminile avranno questa possibilità. Ci auguriamo che possa essere una finale valevole per l'oro, sarebbe ancora più clamoroso, ma tutto può accadere anche perché avete visto quello che è accaduto nel tennis, nel singolare femminile, quanti rimpianti per Jasmine Paolini perché Iga Sbiontek è stata eliminata dalla cinese in semifinale quindi scusate ai quarti di finale, quindi sembrava già scritto per la Sbiontek scusate in semifinale quindi andrà comunque la polacca a giocarsi la finale per il terzo quarto posto però era scontato sembrava scritto che la regina di Parigi de Roland Garros avrebbe avuto vita facile e invece così non è stato questa dimostrazione che il tennis non è mai scontato, che i pronostici sono fatti per essere sovvertiti e oggi ne abbiamo avuto la riprova. Che dire, siamo gasati, siamo carichi, ora non so quando sarà in programma la semifinale di Musetti ma mi piacerebbe, tempo permettendo, anche poterla seguire con voi in diretta non vi prometto nulla, state sintonizzati, io cercherò di tenervi aggiornati e di farvi sapere se ci sarà questa possibilità o eventualmente magari se non riuscirò la semifinale, la finale o per il primo o secondo posto o per il terzo o quarto posto perché, ripeto, Musetti ha la certezza di andare a giocarsi una partita per una medaglia ed è, ripeto, un risultato eccezionale. Lorenzo è cresciuto tantissimo, non dimentichiamo che ha un anno in meno di Sinner Musetti perché è anche lui da tanti anni nel circuito, ha esploso molto giovane e tanti credono che Musetti abbia 25-26 anni, in realtà è un classe 2002 Musetti, ha appena 22 anni e veramente adesso sta trovando una continuità in questa estate che in molti avevano, me compreso, avevano chiesto gran voce e Musetti sta rispondendo con risultati veramente eccezionali. Sì, ma anche all'ultimo step però come ho sempre detto ne vince uno, ogni torneo lo vince solo un atleta quindi bisogna anche sottolineare e rimarcare la crescita di un giocatore e soprattutto quando si inanellano prestazioni simili e risultati del genere, veramente bisogna applaudire e congratularsi e Musetti merita veramente tutto il nostro, a mio modo di vedere, sostegno e supporto. Anche se dovesse arrivare quarto sarebbe comunque un oro per Musetti perché, ripeto, chi avrebbe mai detto che anche prima degli ottavi, gli avversari erano Frizz e poi eventualmente Zverev. Anche nei vostri stessi commenti ho letto che giustamente, ma anch'io lo pensavo, Frizz era abbordabile perché comunque sulla terra rossa Musetti ha un qualcosina in più e l'ha dimostrato, ma Zverev, campione uscente, era quasi utopia e invece 2-7-0, doppio 7-5, addirittura la prima palla break nel secondo set guadagnata, la va a concretizzare e convertire nel break e poi ha tenuto in maniera splendida, non gli è tremata mai la mano. Insomma è un Musetti che si sta rivelando un giocatore veramente, finalmente ritrovato, comunque abbiamo trovato un grande giocatore. Il sogno qual è? Chiaro, le Olimpiadi non valgono per la classifica ATP, ma ha poca importanza, c'è il prestigio, per Musetti avrebbe veramente secondo me un valore, una medaglia incredibile, ma c'è il sogno di avere due giocatori alle finals, chiaramente Yannick Sinner, numero uno del mondo e perché no, Musetti, c'è una seconda parte di stagione ancora da vivere dove Musetti ha buone chance. Se si manterrà su questi livelli credo che potrebbe esserci veramente un qualcosa di eccezionale. Noi ce l'auguriamo, incrociamo le dita e credo che sarebbe anche lì un risultato storico. L'Italia del tennis sorride, brilla e ha concrete possibilità di portare a casa una medaglia. Come avevamo detto alla vigilia di queste Olimpiadi si dava per scontato almeno una medaglia, così poi non è stato in corso d'opera, ora ci ritroviamo con Musetti in semifinale, Paolini e Rani in semifinale. Quindi che dire, bene così, fatemi sapere anche voi nei commenti che cosa ne pensate, insomma se ve l'aspettavate, se siete contenti, se secondo voi Musetti indipendentemente che sia Diokovic o Zizi passa buone chance anche di andare a vincere il torneo, perché è vero che di là c'è un Aikaraz che ha battuto Tommy Paul e ora aspetta l'avversario tra Oger Aliassim e Kasper Rudd, però insomma come la sguonte che oggi ha perso perché non può succedere anche a Diokovic o Aikaraz, insomma Musetti ci crede, noi ci crediamo. Io vi do appuntamento a domani per un nuovo video e che dire, buona serata a tutti!